Duro scontro verbale ieri tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il capogruppo del PD Andrea Ferrazzi. Nella sede della città metropolitana e in occasione della seduta del consiglio per l'approvazione del bilancio, il sindaco e i consiglieri di maggioranza arrivano con un'ora di ritardo. Mancanza di rispetto, commenta da subito il capogruppo del PD. I toni si accendono. Il consiglio metropolitano si è comunque concluso con la presentazione del progetto di piano strategico dell'opposizione. Ma la diatriba tra i due è proseguita a Caffarsetti e su Facebook. Per chi lavora per l'ex provincia, oggi città metropolitana, stipendio e premi salvi. Per il prossimo anno, ha detto Brugnaro, si guarderà il criterio della meritocrazia per la distribuzione della parte variabile del salario, così come avviene per i lavoratori del comune di Venezia. La città metropolitana di Venezia è tra le più virtuose a livello nazionale, meglio anche di Roma, Milano e Torino, e malgrado i tagli del governo. Il patto di stabilità verrà rispettato e decresce anche il debito grazie al contributo della regione, intervenuta con 9 milioni di euro nel 2016. Il bilancio di previsione 2017 viene impostato con l'utilizzo di una parte di avanzo in misura inferiore e con l'incremento di alcune voci, come introiti degli autovelox, i passaggi di proprietà delle auto, oltre all'alienazione di alcuni immobili, il curso al Dicchioggia, Palazzo Balbidona e la quota di autovie venete. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato consigliere di SAVE, la società guidata da Enrico Marchi, che gestisce l'aeroporto di Venezia, quello di Treviso, e che si trova nella società degli aeroporti di Verona e Brescia. È il tredicesimo componente del Consiglio di amministrazione dopo l'abbandono di Paolo Sirmioni, una nomina che segna un accordo di collaborazione di SAVE con Venezia per lo sviluppo dell'aeroporto. Si avvicinano le feste e così iniziano a scattare le prime ordinanze contro i botti dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, il provvedimento che vieta lo sparo di mortaretti e simili, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi, esplosioni pericolose, nonché la rottura di oggetti di vetro sulle pubbliche vie e piazze. Una consuetudine, ha detto il sindaco per il comune di Jesolo, adottare queste misure di prevenzione per consentire a tutti di festeggiare in sicurezza e per prevenire eventuali disturbi all'acquiette pubblica. Sempre a Jesolo, dopo l'attentato di Berlino, disposti i provvedimenti per rinforzare la sicurezza attorno all'area di Piazza Mazzini, dove fino al prossimo 8 gennaio resterà aperto lo Jesolo Christmas Village. Dal lato via Baffile, in via Trentin, lato ovest, sono state posizionate alcune barriere di New Jersey in cemento, per evitare che mezzi di qualunque genere possano entrare nelle aree pedonali, dove sono installate le 43 casette in legno, l'albero di Natale e la pista di patinaggio su ghiaccio. Controlli in tutta la provincia veneziana, nel mirino delle forze dell'ordine, le sale da gioco e le agenzie di scommesse, una operazione che ha coinvolto pattuglie della polizia, carabinieri e guardia di finanza. 214 le attività controllate, 8 le denunce a 4 titolari di sale da gioco tra Jesolo, Mestre e Sandonà, per irregolarità, slot machine installate non in regola e sanzioni anche per aver permesso il gioco in orario pomeridiano, vietato da un'ordinanza del sindaco di Mira. Era a 90 di piave in un albergo, i carabinieri della stazione locale di Porto Gruaro l'hanno arrestato. Si tratta di un uomo di 41 anni di cuneo, ma residente ad Aosta, condannato definitivamente a 3 anni e 4 mesi di reclusione, per aver violato alcune norme in materia fallimentare per fatti risalenti al 2015. La sentenza è stata emessa in ottobre dalla Corte d'Appello di Torino e probabilmente l'uomo non era nemmeno a conoscenza. L'uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Porto Marghera, in uno stabilimento vicino al parco scientifico Vega. Vigili del fuoco, ambulanza e automedica sono intervenuti per l'infortunio di un lavoratore di 31 anni, residente a Spinea, occupato all'interno della Simar, stabilimento specializzato in metalli. L'uomo sarebbe rimasto incastrato con un braccio in un macchinario per la laminazione. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli ispettori Spisal dell'Ulso 12. Traumi più lievi anche all'altra mano nel tentativo di liberarsi dalla morsa del rullo. Incendio poco dopo le ore 20 di ieri in località Santa Teresina in via Grassaga 90 di Piave. A fuoco l'ex falegnameria in ristrutturazione come abitazione. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'intera area sono durate tutta la notte. Non si registrano feriti. Riapre i battenti la discoteca Area City nell'area Terraglio 1 a Mestre. La storica discoteca si inaugurerà la sera di Natale con un nuovo nome. Si chiamerà infatti Beast. Due anni fa la chiusura dovuta a periodi di alti e bassi. Il locale era stato aperto nel 1990 e aveva segnato la giovinezza del popolo ballerino mestrino. Il locale era stato aperto nel 1990 e aveva segnato la giovinezza del popolo ballerino mestrino.